Buon pomeriggio dal Tg Lazio, a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri è durato circa mezz'ora e ha nominato il nuovo prefetto di Roma, è Lamberto Giannini, che succede a Bruno Frattasi, che aveva lasciato il suo incarico il 9 marzo scorso. Giannini, che vanta un curriculum di spessore, era a capo della polizia. Il servizio è di Pasquale Notargiacomo. Dopo più di due mesi, Roma è il suo nuovo prefetto, è Lamberto Giannini, il successore di Bruno Frattasi, che aveva lasciato il suo incarico il 9 marzo. L'indicazione è venuta dal Consiglio dei Ministri, meno di mezz'ora, poi la nomina Giannini, che era capo della polizia, viene sostituito da Vittorio Pisani e torna nella capitale a Palazzo Valentini. Un percorso inconsueto, impreziosito dai poteri speciali sul giubileo del 2025. Il nuovo prefetto è nato a Roma nel 1964, laurea in giurisprudenza alla Sapienza, conosce bene la macchina della capitale, dove è stato direttore della Digos. Nel suo curriculum, indagini importanti, come quella sull'omicidio di Marta Russo, ha seguito anche casi delicati di terrorismo, l'omicidio di Massimo D'Antone, l'arresto nella capitale di uno jihadista di Al-Qaeda accusato degli attentati nella metro di Londra del 2005. Auguri e complimenti di buon lavoro sono arrivati dal ministro dell'Interno Piantedosi al termine del Consiglio dei Ministri. Rivolgerò particolare attenzione alle sfide che attendono la capitale, dove io stesso, aggiunto Piantedosi, dopo la mia esperienza di capo di gabinetto del Viminale, ho svolto le funzioni di prefetto prima di assumere l'attuale incarico. Tra le priorità di Giannini, la sicurezza nella zona della stazione Termini, dove a luglio dovrebbe partire un piano di riqualificazione.